In questo numero di Qui Europa Magazine, il Parlamento europeo condanna Hamas e chiede il cessato il fuoco. BCE, il taglio dei tassi ancora lontano. I fondi strutturali hanno aiutato 5 milioni di imprese. Un cessato il fuoco permanente è la ripresa degli sforzi volti a trovare una soluzione politica, a condizione però che tutti gli ostaggi siano rilasciati subito e che l'organizzazione terroristica Hamas sia smantellata. È quanto chiede il Parlamento europeo con una risoluzione non vincolante sulla crisi in Medio Oriente. Il testo è stato approvato con 312 voti favorevoli, 131 contrari e 72 astensioni dalla plenaria di Strasburgo. Gli eurodeputati esprimono il più profondo cordoglio per le vittime innocenti da entrambe le parti del conflitto tra Israele e Hamas. Pur condannando con la massima fermezza l'attacco terroristico portato avanti da Hamas il 7 ottobre scorso, la risoluzione denuncia la risposta militare sproporzionata israeliana che ha causato un numero di morti senza precedenti tra i civili e chiede il rispetto del diritto internazionale. Tra gli eurodeputati italiani condivisione sulla richiesta del cessate il fuoco. La situazione umanitaria a Gaza è terribile. Ci sono già 10.000 bambini in 100 giorni che sono morti e è stato stimato che circa 10 bambini ogni giorno restano mutilati a vita. Non c'è acqua, non c'è elettricità, non ci sono alimenti. Gli aiuti umanitari fanno molta fatica ad arrivare perché chiaramente sotto i continui bombardamenti è molto difficile che possano arrivare. Per cui è importantissimo che il Parlamento voti in maniera unanime, il quanto più possibile unanime, un cessate il fuoco. Un cessate il fuoco immediato perché dobbiamo pensare ai civili. Quello che sta succedendo nella striscia di Gaza va contro il diritto internazionale umanitario. Chiediamo l'immediato cessate il fuoco e il permanente cessate il fuoco per consentire innanzitutto alle persone di non morire più sotto le bombe, per consentire ovviamente l'arrivo di aiuti umanitari necessari e poi certamente anche per iniziare a parlare di un processo di pace per garantire anche al popolo palestinese uno Stato e condizioni di vita dignitose. Nello stesso tempo abbiamo anche chiesto e chiederemo che ci sia rilascio senza condizioni degli ostaggi israeliani e quindi faremo ovviamente tutto quello che è il nostro potere e possibilità per garantire anche questo. La speranza dell'Italia che è in campo in maniera diplomatica con tutta la propria disponibilità e le proprie forze è che si arrivi presto a una fine del conflitto. Chiaramente questo deve avere il prezzo dei terroristi di Hamas. I terroristi di Hamas si devono consegnare, debbono liberare incondizionatamente tutti gli ostaggi che hanno fatto il 7 ottobre e nei raid successivi e solo allora si potrà cominciare a parlare veramente di trattative di pace. I tassi di interesse restano su livelli sufficientemente restrittivi finché sarà necessario, lo ha ribadito la Banca Centrale Europea nell'ultimo bollettino economico. L'obiettivo dell'Eurotower è assicurare il ritorno tempestivo dell'inflazione al 2% nel medio termine. Secondo le previsioni della BCE, l'indice dei prezzi tornerà probabilmente a registrare una temporanea accelerazione nel breve periodo. Secondo le proiezioni macroeconomiche per l'area dell'euro, l'inflazione si ridurrà gradualmente nel corso del 2024 per poi avvicinarsi nel 2025 all'obiettivo del 2%. Gli esperti della BCE si attendono che l'inflazione complessiva si collochi in media al 5,4% nel 2023 e al 2,7% nel 2024, al 2,1% nel 2025 e all'1,9% nel 2026. Le proiezioni sono state riviste al ribasso per il 2023 e soprattutto per il 2024. Le previsioni sulla crescita economica restano orientate al ribasso anche per i rischi di natura geopolitica legati alla guerra in Ucraina e alla crisi in Medio Oriente, fattori che potrebbero determinare un aumento dei prezzi dell'energia nel breve periodo, con conseguenze sull'inflazione. I fondi strutturali ed investimenti europei del periodo di programmazione 2014-2020 hanno consentito di sostenere oltre 5 milioni di imprese. Sono alcune delle cifre dalla relazione 2023 pubblicata dalla Commissione europea. Le politiche di coesione hanno aiutato 64,5 milioni di persone a trovare un lavoro, a promuovere l'inclusione sociale e le competenze attraverso la formazione. Sono stati migliorati i servizi sanitari per più di 63 milioni di persone. L'utilizzo dei fondi ha protetto 17 milioni di persone dalle inondazioni e 15 milioni di persone dagli incendi boschivi. Ha sostenuto oltre 2,8 milioni di progetti nel settore agricolo e nelle zone rurali, mantenuto 48 mila posti di lavoro e creato nuova occupazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura. L'obiettivo dei fondi strutturali ed investimento è aiutare le regioni e le imprese a superare le sfide delle transizioni verde e digitale, anche sostenendo i lavoratori nel miglioramento delle loro competenze.